Ciao a tutti ragazzi e questo è un nuovo video di RektSoldier, siamo ritornati in questo nuovo video dove voglio far vedere il quinto attacco di là che può, tre stelle ragazzi, avete capito? Bene, tutto molto programmato, mettiamo il cucciolo da questa parte per distruggere la house time e per far andare soprattutto la regina da RektSoldier dall'altra parte, tesla occulta che appare lì e ora vedrete che sarà una gran fortuna, regina che distrugge l'accampamento, la torre dell'arciere, la tesla occulta che fa andare la mia regina dall'altra parte dove volevo io, poi la regina che fa un po' di macello, la torre infernale che è la targhetta, la regina distrugge il cannone e fa spazio tra tutte le truppe, sgancia pietre a distruggere la prima torre infernale, per far sì che lei non distrugga i guaritori, trappola schetti, trappola schetti, la scheletri che va alla regina ma mi sa che non ha speranze, sgancia pietre qua che fa un devasto perché il drago è lentissimo, intanto la regina ha distrutto la torre bombardiera, molto importante perché doma torri da un sacco di noia, furia per distruggere la regina e l'arco X e siamo già entrati in base. Un'altra tesla occulta appare ma già morta, banco spawnata, metto la veleno che rallenta il drago così che la regina possa distruggere il clan avversario, furia per non far attaccare il drago, la regina è targetta il municipio e intanto tutti i domatori partono, sono sempre più forti, distrugge una torre infernale, due congelamento, si è congelamento raga ma come sto a parlare oggi, sarà per il raffreddore o per il freddo? Due guarigioni, attenzione, metto un'altra qui, nel frattempo i domatori stanno distruggendo dall'altra parte, ne ho messa una lì perché i domatori qui erano molti di più, distruggono la tesla occulta, scomparizione alla regina raga, un altro 3 stars, non so se avete notato ma mi mancava anche il re barbaro e non ho usato un accongelamento, e poi raga non fate gli hater e non dite che poi non era la mia fila in realtà faccio le guerre tutti i giorni però non fa 3 stelle, no raga io fò una guerra ogni fine settimana quindi per favore non insultate, e si conclude qui, una bomba gigante stava per scattare lì pronta a fulminarmi tutti i domatori che esistono in questo mondo, e da lasciare dire tutto se ti è piaciuto il video lascia like, iscriviti, attiva la campanellina e condividi con i tuoi amici, e... Sì